un buongiorno a tutti gli utenti e benvenuti al consueto appuntamento con Piana Stampa la segna stampa di inquieta notizie oggi giovedì 28 febbraio cominciamo sfogliando le pagine di calabria ora che titola uccisero suo fratello ora rischia la galera per gli inquirenti ammazzò uno dei rapinatori di Dele Nova in alto penne ridotte e assoluzioni per il clan pesce ma andiamo ad approfondire proprio la notizia che c'è in prima pagina vittima è anche carnefice Michele Strano è nei guai gli uccisero il fratello è indagato per l'omicidio di uno dei banditi di Dele Nova chiuse le indagini sulla tragica rapina di Pasqua in appello penne ridotte al clan pesce assolti cinque imputati diminuiscono le condanne anche per i reggenti della cosca gas la partita ormai si gioca sulle royalty per il territorio san ferdinando i tecnici lng spiegano il progetto rivisitato l'approfondimento la società e i sindaci piastra del freddo non è cosa nostra Rizzicoli decide di fare da sé gestioni improprio dei rifiuti il comune pianeggiano prepara la gara per la raccolta porta a porta sanità Taurianova e Tena dei Valori invece del 118 si pretenzi l'ospedale di Taurianova a 3 il 2 marzo chiuso lo svincolo di Palmi in uscita gli automobilisti provenienti da sud per giungere in città dovranno usare l'uscita di Bagnara caso scarcella per lente vittoria parziale in appello gioia il consiglio di stato scongela tre atti sospesi dal tar il ricordo a dio Pasquale umile cantore della tradizione l'articolo di ricordo è proprio dedicato a Pasquale Patamia che è scomparso prematuramente qualche giorno fa la famiglia di Pasquale Patamia giungano anche le condoglianze dell'intera redazione di inquieto notizie sito internet con il quale Pasquale ha saltoriamente collaborato Galatro rilievi della corte dei conti chiarimenti del comune via libera in consiglio comunale alle contro deduzioni dell'ente noi con gli altri l'impegno di libera contro le mafie polistena prosegue il gemellaggio con gli studenti toscani i ragazzi della quintarca del liceo Machiavelli di Firenze tra le nuove dal comune 20 mila euro per la scuola di calcio e la città nuova avviso pubblico dell'ente per i servizi assistenziali l'aragone suona per l'unicef l'orchestra giovanile laureanese sul palco del teatro degli otto ciclisti di La Mezzia oppido a 230 anni dal grande faggello l'associazione mesogaia organizza un forum sul terremoto del 1783 durante il convegno saranno esposte stampe e libri dell'epoca sul grande sisma passiamo alle pagine del cutino della calabria calabria a grillo voti di pd e pdl analisi e polemiche bufera sui vertici regionali del partito democratico all inside sconti di pena per i pesce e andiamo ad approfondire le notizie che riguardano il nostro territorio e in particolare questa di cronaca giudiziaria riguardante il processo all inside esce di scena il carabiniera liberti per il boss 16 anni di reclusione al posto da eventi riportati dal group assoluzione condanne ridotte al processo all inside in secondo grado passiamo alle pagine della piana rigassificatore dialogo aperto la riunione tra i vertici della lng medegas e rappresentanti istituzionali e sindacali locali il territorio chiede all'azienda garanzie per il lavoro la sicurezza e l'ambiente palmi itaca assisterà tutti i bambini da firenze per un'esperienza nelle terre confiscate alla mafia il progetto degli studenti toscani con i ragazzi di libera torenova sarà presentato il terzo romanzo di legato il suo ultimo lavoro al centro di un incontro sabato a torenova all'istituto gemelli careri il voto banco per le comunali l'ombra dell'antipolitica scompaggina ogni previsione sul futuro di cittanova perdono tutti i partiti tradizionali mentre l'unico a gioire è il psi torenova rinnova la sua cultura l'udc sparisce ma il centro sinistra non riesce a crescere scusate torenova rinnova la sua cultura di centrodestra ma il pdl crolla giocatauro feo di berlusconi con il 47 per cento tracollo del partito di bersani il sindaco marco cascarano rifende rivendica la buona affermazione ottenuta dai democrat in realtà cascarano e del pdl quindi rivendicherà la buona affermazione ottenuta dal popolo della libertà a cinque fronte dice il sindaco abbiamo vinto noi e passiamo alle pagine di gazzetta del sud grillo a brassani mai la fiducia al pd rosarno ridotte le condanne all inside crolla l'accusa in appello cinque assoluzioni all'interno di gazzetta del sud precisamente a pagina 34 pdl primo a palmi e torenova il centrodestra guida la graduatoria delle forze politiche stacca il pd il ciclone grillo balza al secondo posto intercetta la voglia di cambiamento gioia tavolo nomina di un dirigente il comune vince in appello la sceltesima una scarcella il consiglio di stato ha accolto il ricorso laureana aveva trovato la casa libera un romeno in manette gioia tavolo strade pericolose prime interventi nei quartieri periferici già affidati i lavori palmi oggi rapporti tesi in consiglio comunale una convocazione urgente che raffredda ancora di più il dialogo tra i due poli abbiamo qualche piccolo problema tecnico di visualizzazione che speriamo di riuscire a risolvere non riusciamo purtroppo a visualizzare l'ultima pagina della nostra rassegna che chiudiamo pertanto qui ricordandovi e rinnovando l'appuntamento con piena stampa che torna domattina alle 8 e 30 come sempre subito dopo il caffè a voi tutti dall'uguro di no l'augurio di una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti